Antenna Sud incontra le cariche istituzionali del territorio pugliese in occasione delle festività natalizie. Siamo nella Batte, siamo nella prefettura di Barletta Andrea Trani, appunto nella città della disfida e siamo nel quartier generale del prefetto dottoressa Rossana Riflesso che da quattro mesi è in carica dopo l'avvicendamento con l'ex prefetto Maurizio Valiante. Eccellenza, un bilancio di quest'anno e soprattutto benvenuta all'Antenna Sud. Grazie, grazie a voi di essere qui. Bilancio di quest'anno? No, di questi quattro mesi perché sono solo quattro in effetti. Come ho sempre detto è una prefettura che conoscevo, un territorio che conosco per aver già lavorato qui e comunque per provenire da Bari, quindi molte problematiche sono comuni, le conoscevo già e quindi che cosa posso dire? Che oggettivamente non mancano problemi, ci sono tante questioni da definire, non dico da risolvere, sarebbe bello poter dire da risolvere, però ci stiamo provando. Però è anche come dire un territorio che esprime tantissime capacità. Io tra l'altro ho un ottimo rapporto con tutte le istituzioni del territorio, in particolar modo con quelle con cui ho più a che fare, quindi con le forze dell'ordine, ma anche con la magistratura, ritengo di poterlo dire tranquillamente. E quindi come spesso viene detto, diciamo anche da altri colleghi. Abbiamo veramente creato una squadra Stato e lavorando così si lavora meglio, io ritengo. E spero che con l'anno prossimo si possano realizzare una serie di prospettive, una serie di progetti e di idee che abbiamo in campo. Ecco, eccellenza, ha parlato dei suoi precedenti incarichi istituzionali nel territorio, in particolare a livello di commissariamento in questa zona della Puglia, ha raccolto l'eredità di Maurizio Valiante, un'eredità che è importante, è stato un lavoro intenso, quello dell'ex prefetto ed è stato riconosciuto universalmente per quello che è stato appunto il suo impegno in questo territorio. Le chiedo che territorio ha trovato appunto dopo il mandato di Maurizio Valiante. Sicuramente è il collega che reputo anche un amico oltretutto, perché ci siamo conosciuti quando non eravamo prefetti nessuno dei due e abbiamo anche avuto occasioni lavorative insieme. Ha fatto, come ha detto lei, un ottimo lavoro sul territorio, peraltro in un periodo caratterizzato dalla pandemia, quindi insomma lui credo si sia insediato poco prima della pandemia, quindi ha dovuto gestire come tutti i prefetti questa situazione che non era semplice e ha cercato anche di avviare, ci è riuscito, ha avviato una serie di iniziative, una serie di protocolli, una serie di attività finalizzate a creare rete, soprattutto, come le dicevo prima un dato molto importante è questo, e anche a far emergere situazioni magari non proprio limpide, il commissariamento del comune di Trinitapoli, una serie di interdittive antimafia, insomma un lavoro che lui ha potuto svolgere, io lo dico anche con fermezza, grazie ai collaboratori, grazie a lui naturalmente, ma grazie ai collaboratori, perché questa prefettura, nonostante sia una prefettura giovane, perché ha pochi anni, insomma, però ha dei collaboratori molto, molto validi che hanno sostenuto sicuramente il precedente prefetto come stanno sostenendo me, quindi il merito va anche a loro. E con gran lavoro dalla squadra, dalla prefettura, in un anno, il 2022, che è stato intenso, complicato sotto diversi punti di vista, Barletta in particolare, ha avuto fatti stringenti di cronaca nera da fronteggiare nell'arco dell'anno solare, l'ordine pubblico e la sicurezza, l'ha detto anche nelle precedenti interviste, in diversi incontri istituzionali, e la sua mission per il nuovo anno è sicuramente un punto di partenza per tutta la cittadinanza che attende appunto di tornare a respirare un'area di società civile in armonia con se stessa. Sì, allora, il prefetto ha una marea di compiti. Ne abbiamo più volte detto questo anche in altri contesti. Le competenze che sono del prefetto forse non sono neanche ben conosciute. Faremo in modo anche nel prossimo anno di rendere più visibili le competenze della prefettura. Però è chiaro pure che fra queste competenze, quelle di controllo del territorio e quindi riferite appunto all'ordine e alla sicurezza pubblica, sono a mio giudizio fra le più rilevanti e comunque quelle di maggiore percezione da parte della cittadinanza. Su queste quindi tematiche io mi sto impegnando particolarmente. È evidente che la situazione attuale consente sicuramente, si spera in un miglioramento. Stiamo facendo di tutto perché questo accada. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che appunto ci sono più operazioni, operazioni, più controlli e anche forse qualche risultato, anzi sicuramente l'abbiamo messo come dire da parte e lo stiamo anche rendendo noto perché è giusto pure che la cittadinanza sappia quello che si fa. Non solo quindi gli aspetti negativi ma anche gli aspetti positivi. Anche da ultimo il protocollo quello per le farmacie che abbiamo sottoscritto proprio qualche giorno fa. Proprio per le numerose rapine nelle farmacie che ci sono state sia a Barletta ma anche ad Andria, insomma un po' ovunque in provincia. È finalizzato proprio a questo. Cioè stiamo cercando con i mezzi che ci sono di fare il possibile e io sono fiduciosa. Sono fiduciosa che intanto anche aumenteranno questi mezzi, queste risorse e sempre meglio si potrà fare. Si è parlato di protocolli di sicurezza sottoscritti nell'arco di questi mesi, protocolli che hanno portato a dei risultati importanti. Che rapporto si è instaurato in questi quattro mesi con i sindaci del territorio e anche col presidente della provincia? Sì, decisamente favorevole. Io penso che anche loro possano dire la stessa cosa. C'è una grande collaborazione, ci sentiamo spesso, ci vediamo spesso e qualunque problematica, un po' anche come il mio predecessore aveva fatto, viene portata sul tavolo della prefettura per cercare un punto per concordare determinate cose, per essere uniti anche nelle soluzioni. Ha parlato delle questioni di organico anche, una questione che hanno già lamentato altre autorità per assenza, carenza di personale che rende un po' più complicata l'attuazione di alcune strategie di intervento sia a livello preventivo che repressivo. Dal punto di vista della prefettura è un problema sormontabile, sormontato? A che punto siamo anche con un discorso di personale? Lei si riferisce al personale della prefettura? Sì. Allora, come in tutte le amministrazioni risentiamo della mancanza anche di concorsi. Negli ultimi anni non si sono fatti concorsi, quindi chiaramente un po' ne risentiamo anche noi. Ci sono i pensionamenti, non c'è una sostituzione quantomeno non immediata rispetto alle persone che vanno giustamente e felicemente in pensione. Quindi è chiaro che anche noi avessimo più personale, saremmo più operativi, riusciremmo a svolgere meglio le nostre funzioni. Però io ripeto, in questa prefettura, io provengo anche da altre realtà, quindi posso farlo questo confondo. In questa prefettura le persone che lavorano sono veramente tutte coscienziose. Spesso io vedo rendere un'attività lavorativa che va anche oltre il dovuto, con passione, anche con divertimento. Quindi ce la facciamo. La provincia Battro è un territorio molto dinamico dal punto di vista delle attività criminose, dal punto di vista dell'illecito. Abbiamo un po' imparato a conoscere in questi ultimi anni, con la concorrenza magari anche con Foggia e Bari, dei territori davvero importanti da attenzionare da questo punto di vista. Per il 2023 quali sono le attività in programma? Ovviamente non ci sbilanciamo in termini operativi, però comunque cosa si sente di dire la cittadinanza che chiede ovviamente maggior sicurezza e maggiori interventi anche per contrastare questi fenomeni illeciti. Io ripeto, sotto il profilo del controllo del territorio che è quello che spetta al prefetto, stiamo cercando di intensificare, naturalmente orientando la nostra attività su specifiche esigenze e sulle priorità che di volta in volta si presentano, stiamo cercando di essere più impattanti, di essere più efficaci e io ritengo che in alcuni casi questo sia accaduto. Tra l'altro ho anche un riscontro da parte della popolazione di alcuni con cui mi sono interfacciata. Quello su cui io mirerò molto, che era già un'attività in campo, messa in campo da questa prefettura, ma voglio intensificare l'attività in termini di prevenzione, quindi concreta però. Non voglio semplicemente, come dire, sottoscrivere altri protocolli o mettere giù, scrivere così un libro dei sogni. Voglio oggettivamente fare delle cose concrete, ecco perché stiamo facendo un lavoro abbastanza puntuale con le associazioni del territorio, anche con la Chiesa, per cercare di fare delle attività che siano finalizzate su tematiche, su problematiche, la problematica per esempio anche legata ai giovani, agli adolescenti e su tutte le devianze, diciamo le dipendenze. Stiamo cercando di fare un lavoro di questo genere. Nella più assoluta convinzione che è necessario prevenire attraverso educazione, formazione, informazione. Dobbiamo cercare di anche appassionare, io penso, i giovani per dire alla politica, all'educazione civica, cosa che forse si è un po' persa negli ultimi anni. Ne sono molto convinta e questo noi anche faremo e stiamo già facendo. Eccellenza, per chiudere un messaggio di auguri alla cittadinanza, ai telespettatori di Antenna Sud che appunto seguono costantemente le vicende che riguardano il territorio, in particolare la Prefettura, un messaggio ben augurante per le festività natalizie e per il 2023. Beh, non posso che augurare buon Natale, diciamo un Natale sereno, ognuno il Natale lo vive come crede, secondo il proprio credo, però di certo una cosa ci accomuna, cioè la volontà di passarlo in famiglia, di passarlo con i nostri cari, con i nostri affetti e io questo auguro, nella maniera più tranquilla e più serena possibile. Per il 2023 auguro che sia un anno sicuramente migliore dei precedenti, ma penso che ci siano le condizioni perché lo sia, è un anno in cui ciascuno possa realizzare una fettina dei propri sogni, delle proprie ambizioni, delle proprie speranze. Da parte mia una assicurazione riguardo diciamo all'impegno, l'impegno che io metto nel mio lavoro, che peraltro mi appassiona, è una mia passione, insieme a tutte le altre istituzioni del territorio, alle forze dell'ordine, perché le cose possano sempre andare meglio, me lo auguro di vero cuore. Grazie eccellenza, buon lavoro, buon Natale e felice anno nuovo. Grazie anche a voi, grazie.